Buongiorno a tutti. Superata la fase convulsa delle convocazioni e la soddisfazione per essere stati immessi in ruolo magari dopo tanti anni di precariato, per i docenti ne ho messi in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2020 si presenta adesso un problema non indifferente. Infatti il testo unico della scuola come modificato al decreto scuola del 2019 ha introdotto un vincolo quinquennale per i docenti ne ho messi in ruolo i quali per ben cinque anni dall'immissione in ruolo non potranno né chiedere il trasferimento né l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione e nemmeno potranno essere utilizzati con contratti a tempo determinato presso altri ruoli o altre classi di concorso. Questo è un vincolo che in qualche modo era stato anticipato per i docenti vincitori del concorso di quel DDG 85 2018 però per i soli assunti dal 1 settembre 2019 per i quali era già stato in sostanza anticipato il vincolo quinquennale che entra in regime per i docenti messi in ruolo dal 2020-2021. Purtroppo i primi ricorsi decisi dalla precedente categoria di docenti sono stati respinti e i giudici hanno evidenziato che in sostanza si sta assistendo ad un trend del legislatore che ha introdotto questo vincolo per andare incontro all'esigenza dell'amministrazione di non vedere sguerniti i posti dati ad immissione in ruolo a docenti che subito dopo l'immissione in ruolo magari lasciano il posto su trasferimento o su assegnazione provvisoria per rientrare nelle sedi di residenza. Quindi a fronte di questa esigenza il legislatore ha introdotto questo vincolo quinquennale modificando l'articolo 399 del testo unico della scuola introducendo la regime anche per i docenti messi in ruolo dal 2020-2021. L'unica deroga prevista dal legislatore è rivolta a tutela di coloro che beneficiano della legge 104-92 per invalidità personale o per assistenza a congiunti disabili gravi per situazioni però che sono sopravvenute al loro inserimento nella graduatoria di merito del concorso o nelle graduatorie di esaurimento. Sicuramente non mancheranno i ricorsi né anzi al giudice del lavoro per contestare questo vincolo quinquennale e rivendicare sostanzialmente il principio dell'unità familiare che di fatto viene totalmente disgregata per un vincolo che dura per ben cinque anni. Tuttavia il tenore letterale della norma è chiaro e nei ricorsi sarà necessario sollevare una questione di legittimità costituzionale per cercare di convincere i giudici del lavoro a rimettere la questione alla corte costituzionale la quale è l'unico organo del nostro ordinamento che può giudicare in ordine alla costituzionalità di una norma di legge. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.